Dottor Fanti Aspetta Colpo di pistola ha cancellato una parte precisa dei ricordi del professore Quale parte? Tutti i ricordi degli ultimi 12 anni Le cose fra noi sono cambiate, siamo separati Ci conoscevamo Sono la dottoressa Giordano, ero la tua assistente Non sarò più nulla di tutto quello che ero C'è questa cosa nuova, si chiama la seconda possibilità Anche a te sembra diverso Sincero Io ormai sono soltanto un paziente Sì, ma tu sei il miglior medico di ammiossa che io conosca Febbre, convulsioni, complicazioni renali e polpora trombotica Il tempo può tornare indietro Le cose rotte si possono aggiustare Sì, ma tu sei il miglior medico di ammiossa che io conosco